ecco questa quando pensi di essere octane ma non lo sei maledetti avete fatto usare bangalore sbaglio l'heli 1 c'ho il casco che si glitza mentre corro finalmente uso bangalore vediamo quanto durerà in solo in solo forse poco vai solito solito land questo è il caustic mio e fatene via bravo riuscirò in questa partita a trovare un avoc ma stiamo scherzando perché stanno andati tutti insieme no no vado di alternator guarda tutta bella maxata tutti gli accessori viola vai senti nell'alternator proprio per perdere la partita al primo fight però questa sentina l'alternator penso combo peggiore mai vista mamma mia un bug grafico non posso cioè no quando mi muovo ecco vedete ora si vede sei visto sei visto da strafastidio forse è la skin che è che è rotta da dai faccio di alternator e sentine veramente non sapete cosa sto cazzo alternator va bene sentinello giuro che userò poco l'avoc vedi facevo bene a non volere bangalore come si fa a giocare con sta roba e io sono da solo qua poi è un'esca è un'esca stanno arrivando piano piano 132 oro mi minchie dimmi che è l'amico sì così cattivo no amici miei non mi piace ho detto non mi piace ne ha fatto uno grandissimo vabbè facciamola ma sono morti tutti non ho capito ma prezzo noes giuro che l'alternator la uso entro fine partita giuro forse zero colpi energetici guarda io lo so che tu revenant sei pieno grazie mille ma hai veramente pingato una munizione energetica l'addentro bierbante quelle sono verdi ma non sono energetici molto bene ecco questa quando pensi di essere octane non lo sei maledetti avete fatto usare bangalore sbaglio l'hello 1 c'ho il casco che si si glizza mentre corro dovrei troppare l'avoc non ho poi 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 si offende con me il mio amore avoc non posso radirlo così piuttosto fai to con l'alternator a vita a non sparate vero tu che minchia l'ha ucciso no non l'ha ucciso lui ma l'hanno ucciso vai morto l'importante bene dovrei urgentemente lottare le armi di qualcuno tipo le tue a quante kill sono arrivato con octavio 12.400 tipo no pure questo c'ho l'avoc senza colpi fratello ragazzi sicuri 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 dove minchia sta la porta ora ecco piccoli problemi tecnici pensavo perdesse tanto senza il turbo in verità e restalo ci penso io amico ci pensa io ah c'ho lo zainoro tra l'altro allora sti cazzi ci penso io volentieri vai facciamo i seri facciamo i seri cazzo però forse l'avoc del lifeline era full almeno di colpi oddio ne ho zero ce le dropperei volentieri ma sai com'è quella zip quella zip molesta parecchio io quasi quasi l'avoc con 20 colpi per un fight me lo tengo cioè sono sufficienti 20 colpi vanno benone però è ridicolo veramente non se ne trovino penso colpi meno utilizzati quelli di notary ma guarda qua guarda qua guarda qua guarda qua vediamo di che pasta siete fatte non servirà a niente vero vi prego ve lo fate hai fuggito prima lui bravissimi bravissimi cose che ho sparato solo io no 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 è da andare è da andare è da solo ragazzi ragazzi no cazzo no stava là dietro rip rip I would like some help no 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 uccidete non mi basta che muoia ok no l'avoc non lo droppo neanche in endgame non mi trova proprio niente qualcuno ce l'avrà dell'energetica no guarda te vai si gioca con un'arma perché vabbè dai sti cazzi va bene va bene affezionarsi a un'arma ma fino a un certo punto arriva arriva al punto in cui la devi droppare te ne devi separare ed è arrivato la reitta si è resa a parte che ho a parte che ho un bel mastiff la probabilità di vittoria un bel devotion grazie no cazzo stavo dicendo fighta non facciamo tour party invece no è lui che è mi ti voglio bene ma dove cazzo stanno questi ah smiratina è rotta ve la fate ve la fate tutta la vita vai che puttana non ho sentito uno tranquillizzati ma scusami no va bene lo zainuoro ma questo sarà appena arrestato come cazzo c'aveva 225 mamma mia porca puttana no perché avevo sentito che si restava evidentemente si stava facendo un phoenix non si stava arrestando se no non si spiega ho preso un colpo ho detto ho detto gli sparo morirà subito 225 va bene notteggio giugio notteggio prima uccisione compadre oh gente da me no che cazzo ma che senti nel Mozambique ma io qui 20-20 eh non ci posso credere ragazzi ho due di vita uccide aveva due di vita sta trittando come ho il banner dovrei andare al trasmettitore quanto l'hai fatto? 7 ecco ragazzi prego fatteli tutti che non posso venire no non ce la faccio ora posso ora posso ora posso muoviti 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 mi pusha pure riusci a buttarti in verità forse forse rest no vaffanculo vai rider vieni a sfogarti rider su quello che ti ha confermato venga venga sai quanto gli ho fatto il tizio? no 76 più 14 mamma mia 90 l'ho fatto qui c'è una batteria che non ho fatto dai mamma mia il pk guarda neanche i cargo potreste a distruggere fanculo ti odio pk ma ti terrò lo stesso si ma pure 0 pure 0 corazze blu ah vabbè quello ma anche l'ho visto beh insomma a me servo piango perché non ho armi da l'interrucino io piango perché non c'ho un otturatore minghie io piango punto lo vedi proprio fermo là ecco razza blu quanto hai fatto? 19 basta perché si è buttato subito giù eh ma si è buttato giù e ti sentiva dalla zitt che vuol dire? ma ti sentiva cosa senti? craccato? ho fatto una cinquantina anzi ho fatto una cinquantina 22 è craccato questo non è una risposta non lo so è arrivato il terzo è arrivato il terzo loro ce l'ho davanti non l'ho colpito 11 di pk molto bene se mi arrivano preso 79 22 blu vabbè aspetta mi uso alcun armor già che ci sono non riesco è qua 38 blu quello è fuori combattimento piano terra piano terra boh 10 batterie 2 medici a me servirebbe un piccolo otturatore e il ciapo ma allora no perché questo è il ciapo ha il nome diverso da quello di prima mi sa che ha un nome ricorrente che cazzo vuol dire il ciapo che cazzo vuol dire il ciapo è quello di Pablo Escobar ah presumo eh non ho mai visto Pablo Escobar quindi penso confermare Pablo entro il ristorante lascio due batterie c'è una batteria a scudo prendo due batteri quanti ne hai Anna? 2 no no tieni tieni va bene ho così ne abbiamo tre testa prenditela 3 testa arrivano ok uno solo questo questo è uno solo intendi dire che me lo faccio aspetta aspetta vabbè tra aspetta un cazzo 2 sono davanti eh mi curo 3 secondi 1 42 blue mhm tutti e 2 42 blue 22 3 34 rosso 1 vai i zizi zizi tutti e 3 blue erano questi evviva l'assist evviva l'assist sono utili gli assist combo migliore secondo me avok ergo ero 99 ero 99 avok e avok ma hanno laserato beh minchia ma ha fatto 20 ci hanno levato 20 che vuol dire ma la serata guarda come salta guarda come salta hanno levato 25 eh ma cazzo hai sentito la avok quanto era cattivo c'è avrò 20 danni c'è non faccio in tempo a vabbè a prendere qualcosa ho detto ma hanno laserato perché ho sentito una scarica piena di avok ma tutti da soli sono mi sa che non manca nessuno eh invece si mi sa eh ma minchia ne abbiamo uccisi tipo 3 in solo 3 che erano in solo in realtà 2 ah ok sono qua li hai veduti? sto creando una zipline sono finito solo noi andiamo amico fa doorsare mi sa che ho una terra fa doorsare no non ho nessuno a terra laserato un oro è one shot e one shot il lifeline tutti easy gg gg ma il campioncino era pure grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.